amici di extreme hardware benvenuti a questo video unboxing quest'oggi vi parliamo della blackview hero one si tratta di una nuova action cam proveniente dalla cina che si configura come una rivale piuttosto agguerrita dei modelli più economici prodotti della ben più famosa gopro stiamo parlando di una action cam con caratteristiche tecniche piuttosto importanti è in grado infatti di riprendere video in full hd a 60 fps oppure spingersi oltre alla risoluzione full hd fino a 2304 x 1296 pixel riducendo però il frame rate a 30 frame per secondo le caratteristiche tecniche sono di assoluto rilievo perché comunque monta un chipset che è una barella 7 ls 75 un chipset cioè piuttosto buono che di solito non viene montato su prodotti economici il sensore di immagine inoltre un sony imx 206 quindi abbiamo una dotazione hardware piuttosto ricca soprattutto se consideriamo che è un prodotto che non costa a livello dei concorrenti gopro questa black view infatti in base alle dotazioni all'interno della confezione di vendita ha un prezzo che può variare in genere tra i 100 e i 150 euro in termini di confezione come vedete è molto simile alla gopro su questo lato della scatola per esempio abbiamo l'elenco di tutti gli accessori inclusi apriamo subito quindi la confezione come vedete qui c'è la cam che è assicurata tramite questa clip bianca e questo supporto alla confezione la togliamo e vediamo subito i vari i vari accessori inclusi con questo prodotto allora c'è prima di tutto questo frame in plastica che serve per utilizzare la cam senza il case in policarbonato c'è un pannellino utile in caso si rompesse il retro appunto del case originale ci sono due supporti da casco o da serbatoio per la moto insomma si possono usare in moltissimi casi differenti sono supporti come vedete adesivi ma possono essere anche utilizzati con delle fascette elastiche c'è un altro supporto che è molto utile può essere utilizzato con quelli che abbiamo visto prima si incastra in in questa maniera e in modo da ottenere un attacco particolarmente solido ci sono un paio di supporti a cavalletto ci sono vari bracket ne abbiamo tre se non sbaglio eccoli qua tre bracket di lunghezza differente poi c'è questa clip che può essere utilizzata per attaccare un po ovunque la la in abbinato a questo frame c'è un supporto che permette di ancorare la cam eventualmente a un manubrio di una bici o di un scooter di una moto ci sono alcune fascette in plastica e altri adesivi insieme a un piccolo panno per pulire il display c'è logicamente l'alimentatore assieme al cavetto micro usb è importante notare che l'alimentatore in questo caso è assolutamente compatibile con le prese italiane poi abbiamo ancora alcune fasce per utilizzare placche di supporto come quelle viste in precedenza e infine dovrebbe esserci il il manuale eccolo qua è un manuale decisamente scarno soltanto in inglese senza molte illustrazioni serve giusto per capire un minimo come funziona il prodotto mettiamo da parte tutti gli accessori e vediamo velocemente come costruita la cam come vedete è estremamente simile alle varie altre cam cinesi per esempio la sj4000 molto simile anche alla gopro tra l'altro è importante notare che tutti i vari accessori sono retrocompatibili con gopro il case si apre in questa maniera ecco questa è la cam le dimensioni sono decisamente contenute abbiamo sul frontale il tasto di accensione con l'obiettivo il tasto ok che serve per avviare la registrazione o avviare la connettività wifi insieme a un led di notifica altri due led di notifica in questa posizione assieme allo schermo da due pollici sulla destra un paio di tastini per muoversi all'interno del menu e lo speaker sulla sinistra slot per la micro sd che avevamo già inserito slot micro usb e connessione micro hdmi in basso c'è lo sportellino per accedere al vano batteria accendiamo velocemente la cam eccola qui il display non è estremamente luminoso e non è particolarmente definito però comunque siccome è un prodotto che non ha un costo particolarmente elevato può essere considerato più che sufficiente per muoversi all'interno del display all'interno del menu scusate utilizziamo questi due tastini in particolare questo verso l'alto per cambiare tra la modalità di ripresa video la modalità di scatto fotografie e la galleria mentre questo più in basso per muoversi all'interno dei vari sottomenu il tasto frontale è deputato invece soltanto all'accensione spegnimento del prodotto mentre quello superiore se premuto più a lungo serve invece per attivare il wifi vi facciamo subito vedere visto che ci siamo come funziona wifi vedete teniamo premuto questo tastino per qualche secondo e si attiva in questo punto l'icona del wifi prendiamo quindi lo smartphone che abbiamo già configurato per utilizzarlo appunto con con la cam abbiamo già scaricato anche l'apposita applicazione che si chiama linkingize apriamo l'app avevamo già provveduto a inserire la password per la connessione della cam con il telefono ed ecco come vedete cam e smartphone sono collegati ovviamente c'è un minimo di ritardo nella trasmissione dell'immagine al display del telefono però l'applicazione funziona piuttosto bene anche se a livello grafico non è diciamo eccessivamente non eccessivamente curata in ogni caso col pulsante qua in alto possiamo cambiare per esempio la risoluzione del video possiamo decidere se avviare appunto un video o scattare fotografie possiamo accedere alla galleria delle dei video delle foto salvate su scheda micro sd e possiamo modificare alcune delle impostazioni della cam logicamente appunto come vi ho detto non è un'applicazione particolarmente curata non ho avuto ancora modo di testare eventuali applicazioni terze parti è il minimo indispensabile che serve per avviare appunto una registrazione attraverso il wifi oppure vedere quello che abbiamo memorizzato sulla nostra schedina micro sd il wifi come vedete quando è collegato viene segnalato con quest'icona verde ovviamente se manteniamo di nuovo premuto il il tasto ok il wifi viene disattivato per quanto riguarda i vari menu facciamo vedere che tenendo premuto il tasto verso verso l'alto appunto si scorre tra le varie tra le tre modalità della cam mentre premendo una sola volta si accede ai vari menu come vedete questo è il menu che permette di impostare le voci relativi relative scusate alle impostazioni video non ce ne sono molte e sotto questo punto di vista a livello di impostazioni e di menu è sicuramente più ricco un prodotto come l'asse j4000 con il tasto sempre verso l'alto possiamo spostarci invece sul menu generale tra le varie lingue preinstallate non c'è l'italiano non c'è ad esempio nemmeno il tedesco nel francese è meglio lasciare appunto l'inglese possiamo regolare la data formatare la micro sd però non abbiamo moltissime altre opzioni a livello di firmware sicuramente è ancora parecchio migliorabile volevo farvi vedere inoltre che all'interno delle impostazioni per esempio per la per gli scatti fotografici possiamo regolare soltanto la qualità la possibilità di stampare o meno la data e la risoluzione dell'immagine non possiamo per esempio impostare un loop fotografico per realizzare un timelapse per questo unboxing per il momento è tutto ovviamente vi rimandiamo alla recensione completa